Ciao, sono Marco Giordano e ballo ormai da 5 anni. Sono qui alle gare nazionali studentesche a fare un'esibizione di breakdance, di un singolo. La breakdance per me è musica, seguire la musica, muoversi durante la musica e farti trascinare. Non dico che sarà la mia vita, però credo che il mio obbligo rimarrà per tanto tempo. Da dove vieni? Io vengo da Como, sono venuto qua in aereo e speriamo che vado bene, sono un po' in ansia ma penso come tutti.